Come ci connettiamo insieme e stiamo quindi in una possibilità in avanti a tutte le lotte che si fanno territorialmente per avere in modo tale di rompere questa cosa, perché è chiaro, è chiarissimo che stiamo facendo una battaglia politica e che abbiamo alzato il livello, se la cassa deposita e pressi dice chiama è perché hanno un segnale di allarme, se nella legge di Stabilità ci hanno messo a termine di generazione urbana, non possiamo pensare che questo è avvenuto senza che ci sia la nostra battaglia e uno nostro complessivo, certo vanno dentro, le iscrivono e provano che iscrivano dentro la loro logica e cambiandogli il seno, ma questa è la battaglia politica che stiamo facendo, è questo corpo a corpo che stiamo facendo, noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, cioè nemmeno facciamo la battaglia politica di Stabilità, ma che ci vogliono ogni volta alle barre, svuotandolo da dentro e attaccandolo da fuori, però insomma se noi ve lo, e allora secondo me il salto e l'aiuto che noi ci dobbiamo dare alla nostra battaglia di un salto di guardare anche nei territori, è una connessione più forte tra i territori e tra i territori del centro, diciamo così, in cui riusciamo a portare avanti, perché comunque il punto è che ci siamo della nostra battaglia, e ci siamo, e questo secondo me è la nostra qualità, non è detto che questo ci porta a un risultato, però comunque abbiamo la consapevolezza che questa nostra connessione, secondo me è aiutare a comprendere come noi facciamo a fare complessivamente tutti quanti questo salto di guardia e vincere a livello territoriale, avere dei risultati e riportarli a livello nazionale, e generale è viceversa, tutto questo. Si può aggiungere una cosa? Sì, sì, ma proprio c'è un salto di due, che è un rapporto che... Sì, sì, ma vieni là tu. No, no, ma poi te ne vedete. Ah, ok.